ciao a tutti vediamo come si sbloccano i mini giochi ovvero come si fa ad andare a fare tutti quei mini giochi che vediamo pubblicizzati ma non troviamo allora andiamo qua alla lampada di spirideo sai non posso restare fuori dalla lampada senza una persona possedere vai abbiamo noi una persona abbiamo una statuetta importante una statuetta chiave certo eccolo qua che piacere sì sì ora che ci penso suona proprio come qualcosa che potrebbe dire tom nook non ti pare allora qual è il tuo desiderio vieni in visita ok aspetta quanto pare tom nook è un po' indaffarato in questo momento ma non ti preoccupare sistemo tutto io tom nook sarà qui in men che non si dica bene il suo pomo deve ritornare nella mia lampada adesso prendi questo convoccio e vi do come piccolo ringraziamento ecco questo mi congedo ok attendiamo quindi tom nook che arriva in visita e ci dovrebbe dare qualcosa di importante oh questo oggetto 3ds mi sembra è wii wii poi lo vedremo per bene si può trovare anche nei biscotti da fortuna ma ci vuole come sempre fortuna quindi andiamo diretti con la statuetta se ho girato lungo e largo poi ho avuto l'illuminazione ho detto andiamo a vedere anche nella zona camper e me sa che ci siamo questo è il grande camper del nostro aim nook e vale eccolo qua ordiniamo subito tutto quello che c'è da ordinare i new nintendo 3ds ok anche la wii u perché è una di queste due ok il tappetino sacca da golf altro di interessante l'orologio progione oh bello quanto costa 3 coupon ah ce ne ho 31 lo posso comprare mucchio di stelline e questo mio occupa spazio in casa vabbè visto che ci sono anche se ha il tutorial di come sbloccare i minigiochi ma vi prendo anche l'orologio progione ok benissimo a questo punto dobbiamo attendere che domani ci spedisca gli oggetti e quindi vediamo che cosa cosa possiamo fare con questo wii u e con questo new 3ds xl quindi aspettiamo che passi un giorno ed eccoci al giorno seguente andiamo a prendere i pacchetti regalo che ci ha mandato l'area camper ritira regalo ritira regalo e ritira regalo sempre più spacchettati andiamo in casa e piazziamo il nostro 3ds e wii u dove li metto sul tavolino questo ragazzo fa new nintendo 3ds metti in stanza perfetto e vediamo metti in stanza allee azioniamo e wii u vuoi giocare fuga dell'isola deserta e vediamo invece cosa ci dice il 3ds new 3ds animal crossing puzzle league benissimo quindi avete visto come si accede così ai minigiochi del amibo welcome amibo vedete eccoli qua bene premio start per uscire non che altro mi sono un po' incartata comunque abbiamo visto come sbloccare appunto i minigiochi in animal crossing new leaf welcome amibo ecco così ho detto tutto il titolo vediamo accettiamo anche di qua così si fa la prova giusto per vedere fuga dell'isola deserta si desert island escape vuoi uscire? si va bene ok benissimo quindi ce l'abbiamo fatta ad aprire i minigiochi in animal crossing new leaf welcome amibo finalmente io spero di essere stato utile con questo te lo spiego io almeno ci provo mi raccomando commentate qua sotto ditemi se anche voi siete riusciti a trovarli velocemente oppure no insomma commentate il video mettete un mi piace se vi è piaciuto condividetelo iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto adesso ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti